Allora riassumiamo quanto visto finora a proposito delle equazioni di Maxwell, siamo partiti da un vettore associato a una superficie da cui poi abbiamo ricavato il teorema di Gauss, definizione di flusso attraverso una superficie quindi prodotto scalare del campo elettrico per la superficie, abbiamo poi considerato il flusso attraverso una superficie chiusa come la somma di tutti i prodotti scalari del campo elettrico in questo caso per il vettore associato all'elemento di superficie ADK, la somma di tutte queste componenti mi dà il flusso attraverso tutta la superficie S, Gauss ha dimostrato che questo flusso attraverso una superficie gaussiana è dato dalla somma delle cariche diviso epsilon con zero. Abbiamo poi parlato della circuitazione del campo elettrico, cioè la somma di tutti i prodotti scalari E per ΔS, supponendo che E all'interno di ΔS sia costante, quindi l'insieme di tutti questi prodotti scalari mi dà questa grandezza fisica che è la circuitazione del campo elettrico. Questa circuitazione è legata al potenziale attraverso questa relazione e abbiamo dimostrato che essendo il campo elettrico conservativo la circuitazione lungo una qualsiasi linea gamma vale zero. Siamo passati poi al flusso del campo magnetico, il flusso si definisce sempre nello stesso modo come il prodotto scalare del vettore B per una superficie e abbiamo visto che se ho una superficie solida, come nel caso del campo elettrico, devo sommare tutti i contributi B per ΔS oppure B per A nel caso di una superficie solida regolare come in questo caso. Il teorema di Gauss per quanto riguarda il campo magnetico dà questo risultato, flusso di B uguale a zero, che indica questa relazione che non esistono come nel caso elettrico delle cariche magnetiche isolate, ma un campo magnetico è generato sempre da un polo nord e un polo sud. Un altro modo per esprimere questo, o comunque una conseguenza, è il fatto che le linee presa dalla superficie tante linee entrano, tante linee escono, ovvero le linee del campo magnetico sono sempre linee chiuse. Siamo passati poi, come nel caso del campo elettrico, alla circuitazione del campo magnetico. La circuitazione è sempre data dal prodotto di ΔS, questa volta ΔS non è superficie, ma è il percorso lungo la linea per il campo magnetico supposto costante in questa linea. Se io sommo tutti questi contributi, questa è la definizione di prodotto scalare dove ci metto il coseno, io ottengo, eccolo qua, che la circuitazione lungo una linea gamma del campo magnetico è data da tutti questi contributi. Qual è il risultato? Il risultato di questa circuitazione è il teorema di Ampere, che dice che la circuitazione del campo magnetico lungo la linea gamma è uguale a mu con zero per la somma delle correnti concatenate con il circuito. Quelle fuori non partecipano. Anche se ce n'è una che entra e una che esce, insomma il contributo è nullo. Da queste relazioni abbiamo ricavato le quattro equazioni di Maxwell per quanto riguarda i fenomeni stazionari, quindi correnti nulle e no, correnti costanti e cariche ferme e quindi sono queste praticamente, flusso del campo elettrico è Q su epsilon con zero, flusso del campo magnetico zero, circuitazione del campo elettrico zero perché il campo è conservativo, circuitazione del campo magnetico non è zero, non esiste un potenziale magnetico e quindi è diverso da zero e Ampere ha dimostrato che è mu con zero per la somma delle correnti concatenate. Esistono dei casi in cui i campi elettrici e i campi magnetici sono variabili e quindi quando succede questo io ho che varia il flusso, se ho una variazione di campo magnetico varia il flusso attraverso una superficie S e attraverso la linea che circonda questa superficie S abbiamo visto nel caso del circuito si crea una forza elettromotrice indotta. Da questo abbiamo ricavato la legge di Faraday Newman-Lenz che dice che la forza elettromotrice indotta è meno la variazione di flusso all'interno del circuito. Quindi la circuitazione del campo elettrico non è più zero, quindi stiamo facendo le correzioni all'equazione di Maxwell nel caso stazionario per introdurre casi non stazionari, ossia casi in cui esistono campi elettrici e campi magnetici che sono variabili nel tempo. Tant'è vero che se il flusso del campo magnetico è costante la sua derivata è nulla e quindi ritorniamo al caso stazionario. Ma quando la variazione di flusso è zero, quando il campo magnetico è costante la superficie è costante. Quando sono costanti sia aria che campo magnetico, ma quando uno dei due varia allora la circuitazione è uguale alla meno la variazione del campo magnetico nel tempo. In matematica questa è la derivata del campo magnetico in funzione del tempo. Abbiamo poi visto il campo elettrico indotto. Il campo elettrico può essere generato da cariche elettriche ma anche da campi magnetici variabili. Abbiamo fatto questo esempio, abbiamo visto che se all'interno di un circuito variamo il campo magnetico, quindi in poche parole stiamo variando il flusso del campo magnetico attraverso questo circuito, allora si crea un campo elettrico indotto. Quindi se il campo elettrico è generato da cariche elettriche il campo sarà conservativo. Se invece il campo elettrico è generato da campi magnetici variabili non è più conservativo e la sua circuitazione non è più zero. Quindi diverso da zero vuol dire che il campo indotto non è un campo conservativo. Indotto vuol dire indotto da una variazione di campo magnetico. Da qui si corregge anche la formula del teorema di Gauss che riguarda la circuitazione del campo magnetico introducendo quella che abbiamo chiamato corrente di spostamento. La corrente di spostamento che non è altro che epsilon con zero per la variazione di flusso del campo elettrico, cioè una variazione di flusso del campo elettrico genera un campo magnetico. Quindi le sorgenti di campo non sono solo le correnti ma anche le variazioni di flusso elettrico. Quindi così come una variazione di campo elettrico crea una variazione di campo magnetico, lo stesso una variazione di campo magnetico crea una variazione di campo elettrico e questo si vede dal fatto che la variazione di flusso del campo elettrico è presente nella circuitazione del campo magnetico, eccola qua. E la variazione di flusso del campo magnetico è presente nella circuitazione del campo elettrico. e questa è la dimostrazione del ragionamento che ha fatto Maxwell per giustificare la presenza di una corrente di spostamento, giustificata anche dal fatto che se io metto un magneto, una bussola qua dentro e accendo il circuito, questa si muove e si crea qui un campo magnetico e questo campo magnetico non può che essere generato da una variazione di corrente. Maxwell chiama questa corrente corrente di spostamento e gli dà un'espressione di questo tipo anche per ragioni di dimensioni fisiche insomma, perché poi questa la deve sommare nell'equazione di Maxwell, nella quarta equazione di Maxwell qua dentro. Quindi queste sono le equazioni di Maxwell nel caso non stazionario, quando il flusso di B e il flusso di E sono costanti, ritornano queste e ridiventano le equazioni di Maxwell nel caso stazionario. Queste equazioni riescono a spiegare qualsiasi tipo di, qualsiasi fenomeno diciamo di tipo elettromagnetico. Ora è importante se io moltiplico questo per questo e questo per questo è importante il termine mu con zero e y con zero. Se io vado a vedere le sue dimensioni in modo particolare, l'inverso della radice, ottengo che queste sono le dimensioni di una velocità. Quindi Maxwell oltre a prevedere l'esistenza dimostrò che le onde elettromagnetiche si propagano nel vuoto con una velocità di questo tipo. Quindi le soluzioni delle equazioni di Maxwell non sono altro che le onde elettromagnetiche, ossia le soluzioni non sono altro che E e B in funzione del tempo. Questo E e B in funzione del tempo si propagano con una velocità v nel vuoto dato da questa espressione. Quindi come vediamo la velocità che poi, questa è la velocità delle onde elettromagnetiche, poi fu dimostrato che anche la luce è un'onda elettromagnetica e quindi queste costanti tipiche dello spazio vuoto che esprimono le proprietà elettriche, le proprietà magnetiche dello spazio vuoto in realtà determinano univocamente una velocità di propagazione della luce che è costante. Questo risultato fu preso poi da Einstein per formulare poi la teoria della relatività di cui uno aveva assolato appunto la costanza della velocità della luce qualunque sia il riferimento. Il valore è circa 300.000 km al secondo e quindi, diciamo, questa è la velocità delle onde elettromagnetiche. Ora, la seconda e la quarta equazione esprimono appunto un legame profondo tra campi elettrici e campi magnetici che poi marcos e chiamano appunto campi elettromagnetici. E appunto il campo elettromagnese si manifesta nei fenomeni elettromagnetici. questo è un esperimento fatto da Michelson per misurare appunto la velocità di una sorgente luminosa e quindi ha dimostrato che praticamente ci ha ricavato un valore di c che ha chiamato poi che poi è la velocità della luce nel vuoto che è molto molto vicino diciamo al valore questo qua ok poi un'onda ora cos'è l'onda elettromagnetica? che poi sono le soluzioni delle equazioni di Maxwell supponiamo di avere una corrente oscillante una corrente variabile nel tempo quindi se io considero un punto P e vedo che succede nel punto P quando qua c'è un elettrone per dire che va su e giù quindi c'è una corrente oscillante quello che succede è che per quanto riguarda il campo elettrico si crea un campo elettrico alternato quindi la corrente I oscillante nell'antenna crea un campo magnetico B ecco qui il campo magnetico quindi il campo elettrico è parallelo ecco questo diciamo è un'antenna o diciamo è un filo in cui oscillano degli elettroni quindi c'è una corrente elettrica oscillante che succede? che questa corrente elettrica assumerà dei valori massimi e dei valori minimi quindi si creerà tra i due estremi un campo elettrico questo campo elettrico chiaramente è variabile perché assumerà un valore massimo o un valore minimo è così un valore massimo se è oscillante la variazione di intensità del campo elettrico segue un anno di questo tipo ma questo essendo un filo percorso da corrente su un piano perpendicolare al filo si crea un campo magnetico nel punto P che è perpendicolare al campo E perché questo giace su questo piano il campo E invece è parallelo al filo quindi quello che si crea è una variazione di campo elettrico che crea a sua volta una variazione di campo magnetico che creerà a sua volta una variazione di campo elettrico e così via questa successione di campi elettrici e magnetici che si susseguono uno con l'altro e si propagano lungo una direzione con velocità V è proprio l'onda elettromagnetica eccola qua qua è rappresentata appunto l'onda qui c'ho la corrente elettrica oscillante vedete che questo è il piano in tre dimensioni questo è il campo elettrico che oscilla in una direzione il campo magnetico invece oscilla nella direzione perpendicolare e sono tutte e due perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda che si propaga appunto con velocità V che assume quel valore che avevamo visto prima quindi per riassumere questo punto il campo elettrico variabile genera un campo magnetico variabile per il teorema di Ampere generalizzato ma un campo magnetico variabile se vado a vedere le formule genera un campo elettrico variabile che è la legge di Faraday-Numann e quindi diciamo che a sua volta poi genera un campo elettrico variabile e così via quindi l'oscillazione di un campo elettrico cioè la variazione della sua intensità al varia del tempo genera l'oscillazione di un campo magnetico in punti vicini e così via e questa oscillazione si propaga nello spazio sotto forma di onda elettromagnetica questo è un'altra slide che vi fa capire meglio come o in un altro modo come avviene la propagazione del campo elettromagnetico quindi si considera il movimento di una carica Q che si trova in questo punto se si muove questa carica genera un campo elettrico variabile se vado a vedere in un punto vicino nel punto P con 2 questo campo elettrico variabile genera un campo magnetico variabile sono due vettori verdi per indicare che il campo magnetico varia nel tempo prima di una certa intensità e poi aumenta ma questo campo magnetico variabile in un punto vicino P con 3 genera un campo elettrico indotto E con 3 quindi man mano che B aumenta anche E indotto aumenta che a sua volta poi creerà vicino ad un altro punto P4 un campo magnetico indotto e così via quindi si ha questa propagazione di campi elettrici e magnetici E e B sono trasversali sono sempre perpendicolari alla direzione di propagazione V e V è uguale a 1 su radice di epsilon con 0 mu con 0 che abbiamo visto prima ecco questa è l'onda elettromagnetica diciamo fissata, fotografata in un certo istante T con 1 il campo elettrico oscilla in una determinata direzione così come oscilla la carica che lo genera il campo magnetico è invece perpendicolare al piano su cui oscilla E e chiaramente oscillano con la stessa frequenza qui abbiamo la lunghezza d'onda è uguale sia per E che per B ed E lambda ovviamente è legata diciamo alla frequenza appunto dell'onda elettromagnetica l'insieme di tutte le frequenze diciamo delle onde elettromagnetiche che costituisce quello che si chiama lo spettro elettromagnetico è diviso diciamo in zone diciamo così a secondo la frequenza oppure la lunghezza d'onda e il visibile cioè la luce a cui è sensibile l'occhio umano diciamo ricopre solo una piccolissima parte a destra del visibile troviamo gli ultravioletti raggi X e raggi gamma quindi con frequenze sempre crescenti se invece andiamo a sinistra quindi frequenze decrescenti ma lunghezze d'onda più grandi perché frequenze e lunghezze d'onda diciamo sono inversamente proporzionali troviamo gli infrarossi le microonde e le onde radio qui ci sono dei valori per indicare ogni particolare onda elettromagnetica a che frequenza corrisponde e a che lunghezza d'onda corrisponde in funzione del tempo ovviamente la frequenza io posso vedere questa qui c'è T quindi posso vedere la lunghezza dell'onda in funzione quando qua c'è X se invece c'è T vedo diciamo il periodo dell'onda quindi il tempo per fare un'oscillazione completa ovviamente frequenza e periodo sono legati da questa relazione e la relazione tra frequenza velocità e lunghezza d'onda è che la velocità è uguale alla frequenza per ovviamente lambda e la velocità in questo caso è C quindi C uguale a F per lambda qui c'è una serie di slide che diciamo dicono qualcosa sulle varie onde elettromagnetiche a cominciare appunto dalle onde radio queste viaggiano nella ionosfera fino a 500 km di altezza occupano ovviamente la parte bassa dello spettro quindi sono onde a bassissima frequenza e sono quindi con lunghezze d'onda comprese tra 10 km e 10 cm abbiamo per esempio i segnali di queste onde vengono sfruttate appunto dai segnali televisivi dove c'è un'onda trasmittente di quel tipo che genera diciamo un campo elettrico e magneti si susseguono come abbiamo visto c'è il ripetitore l'antenna ricevente nelle varie case o addirittura col satellite in ogni caso sono segnali televisivi che viaggiano su onde che hanno lunghezza d'onda del metro le microonde andando per frequenze sempre crescenti compreso tra qualche decina di centimetri e il millimetro ci sono numerosissime applicazioni sulle microonde tra cui la cottura microonde che si basa sull'oscillazione delle molecole d'acqua contenute nei cibi poi c'è il visibile il visibile è costituito dalle onde elettromagnetiche che percepisce l'occhio umano sotto forma di luce l'occhio umano vede dal rosso al violetto con lunghezze d'onda che variano da questi valori l'infrarosso invece è lunghezze d'onda quindi diciamo che l'infrarosso viene prima del visibile quindi lunghezze d'onda maggiori di 7x10-7 metri e fino a un millimetro si trova la radiazione infrarossa e sulla radiazione infrarossa è basata anche l'astronomia a raggi infrarossi che permette di osservare oggetti invisibili nel visibile appunto non nella radiazione visibile ma nella radiazione infrarossa e sono corpi celesti tra virgolette freddi quindi nebulose e via dicendo dopo il visibile quindi andando sempre più verso frequenze crescenti abbiamo la radiazione ultravioletta che hanno le proprietà di favorire diverse reazioni chimiche anche queste come la produzione di melatonina nella pelle quando per esempio ci si abbronza d'estate sotto il sole ovviamente crea un'eccessiva esposizione procura danni alla pelle e agli occhi aumentando la frequenza troviamo i raggi X largamente impiegati in ambito medico con le radiografie e queste sono le lunghezze d'onda diciamo dei raggi X raggi X diciamo hanno avuto anche un'applicazione nei tubi a vuoto dove una sorgente di elettroni bombardati bombardati attraverso una differenza di potenziale lungo un bersaglio si è visto che in base al bersaglio questi emettono qui si emettono c'è una una emissione di di raggi X per finire i raggi gamma sono i raggi diciamo che stanno tutti sulla destra dello spettro quindi frequenze molto alte sono trasmessi raggi gamma dai nuclei durante le trasformazioni radioattive nel legativamento radioattivo nelle reazioni nucleari i raggi gamma hanno una grande capacità di ionizzare gli atomi sono molte energie sono capaci di strappare elettroni agli atomi ovviamente sono pericolosissimi e sono anche il prodotto nell'universo durante le esplosioni stellari quindi nella formazione di supernove e via e via dicendo che sono i raggi e via di supernove